In questa puntata, la seduta solenne nel giorno della memoria. Targa a Basilio Pompei per il suo impegno a difesa della libertà. Covid-19, valutare un'azione legale contro Pfizer. Si è tenuta mercoledì 27 gennaio la seduta solenne dedicata al giorno della memoria. È troppo importante. Io penso che questo giorno vada ricordato non solo per quello che è stato, ma anche attualizzandolo a quello che è e che sta accadendo anche in questi giorni. Quello che accade in Bosnia è sotto gli occhi di tutti. Campi profughi che sono dei veri e propri lager, quei piedi che escono dalla neve, le persone che non ce la fanno. Io penso che quello che è accaduto, come diceva Primo Levi, può accadere ancora. E la memoria. Seminare il germe della memoria vuol dire far fiorire, far germiogliare fiori nuovi, fiori di speranza. Io lancio solo un messaggio alle ragazze e ai ragazzi toscani. Non siate mai indifferenti, perché quello che è accaduto può accadere di nuovo. Non voltatevi mai dall'altra parte, quando ci sono sopprusi, quando ci sono cose che non funzionano. Mantenete sempre alto l'ideale che ha fatto di questa terra, della Toscana, il luogo in cui davvero si è combattuto contro le tragedie e le barbarie di quel periodo. Il nostro simbolo, che è il nostro Pegaso, nasce dall'esperienza del Comitato di Liberazione Nazionale. Il nostro Pegaso è esattamente il motivo per cui oggi noi ricordiamo questa giornata. Piedi ben saldi nella nostra storia, nei nostri valori, nelle nostre tradizioni, ma le ali che guardano al futuro per fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. Durante la seduta si è tenuta l'Alexio Magistralis dello storico Giovanni Gozzini, professore di storia contemporanea all'Università di Siena, che tra le altre cose ha ricordato un evento particolare. È una storia che abbiamo saputo da poco, relativamente poco, perché sono 1600 ebrei nascosti da altre tante famiglie tedesche nel cuore del Terzo Reich, cioè dentro la città di Berlino. Loro si chiamavano U-Boat, scherzosamente, gli U-Boat erano i sommergibili della Marina Militare tedesca, indicava il loro stare nascosti, sommersi, per non essere catturati. Sono la minima parte della comunità ebraica di Berlino, era 160.000 persone, quindi lo 0,1%, però ci dimostra una cosa, è fondamentale trasmettere ai ragazzi, e cioè che anche sotto il regime totalitario, più sanguinare e oppressivo, anche nel cuore stesso di quel regime, cioè nella sua città capitale, a poche centinaia di metri dalla cancelleria del Führer di Hitler, era possibile comportarsi in maniera diversa. Si può sempre scegliere di non arrendersi al regime. Il professore ha ricordato che il regime totalitario è iniziato arrogandosi il diritto di decidere chi aveva diritto di vivere e chi no. Sì, è un paradosso, perché sono regimi molto nazionalisti, però al tempo stesso si arrogano il potere e il diritto di dire chi fa parte della nazione, e il loro scopo è quello di dividere su criteri politici, su criteri razziali, su criteri di classe, su criteri religiosi, chi può farne parte e chi no. Questa è la natura vera del regime totalitario, e questo è possibile soltanto nella acquiescenza della parte di popolazione favorita. Quali sono gli anticorpi? Beh, cerchiamo noi, insegnanti, di fare questo mestiere, cioè insegnare ai ragazzi a pensare con la loro testa. la lettera che manda al figlio, il comandante del campo di Auschwitz, la notte prima di essere giustiziato, dice che l'errore più grande che ho fatto nella mia vita è stato di credere ciecamente a tutto quello che mi veniva ordinato dall'alto. Se lo dice lui, possiamo dirlo ai nostri ragazzi. Cioè, per noi educatori è un'arma a doppio taglio, perché gli dobbiamo insegnare anche a non avere fiducia preconcetta nei nostri confronti, ma sempre a pensare con la loro testa e quindi a criticare quello che noi diciamo. Se una scuola riesce a fare questo, lo diceva già Don Milani, è una scuola brava. L'Ufficio di Presidenza, per iniziativa del Vicepresidente Marco Casucci e a nome di tutto il Consiglio, ha consegnato una targa a Basilio Pompei per il suo impegno sempre profuso in difesa della libertà. Basilio Pompei, ex deportato militare, ha 103 anni. Quando ha ricevuto il vaccino anti-Covid è stato preso di mira dagli haters della rete. A ritirare la targa c'era il figlio, Giuliano Pompei. Lui mi ha detto, guarda, ringrazia tutti e poi dia anche che io accetto questa targa a nome dei 150, nella baracca sua, dei 650.000 deportati dopo che l'8 settembre avevano detto no alla Repubblica Sociale. Praticamente ha detto, guarda, anche a nome dei 150 che erano in baracca con me, io ringrazio anche al posto loro. E poi gli ho detto, guarda, babbo, che oggi è anche il giorno della memoria. Cosa vorresti dire? Ma niente, dice, vorrei dire soprattutto ai giovani, ai ragazzi che questa è una giornata molto importante e che praticamente si ricordino sempre che l'odio non è il pane quotidiano. Come di solito facciamo iniziative soprattutto per ex partigiani o partigiani, il segnale che abbiamo voluto dare è ricordare un altro pezzo di quelle terribili atrocità. Erano circa 650.000 i militari deportati e Basilio in queste settimane, nel momento in cui aveva ricevuto a 103 anni la prima vaccinazione, mi diceva Giuliano che ieri ha ricevuto anche il richiamo del vaccino, ha subito terribili, vergognosi attacchi sui social, attacchi relativi al fatto che mettevamo a disposizione il vaccino ad un uomo di 103 anni. Io penso che il diritto alla salute sia un diritto inalienabile sia per chi ha un giorno, sia per chi ha 103 anni. Io sono orgoglioso della scelta della regione toscana di partire dalle persone più fragili, dalle persone che soffrono di più e questo è un segnale di attenzione e di testimonianza che come Consiglio regionale abbiamo voluto dare e mettere a disposizione. Dal mio punto di vista la giornata della memoria acquista Valenza, se quella memoria la concretizziamo gli diamo un valore di attualità. Questo è il punto da cui partire, perché anche se mi sono informato della vita di Basilio e Basilio pur lontano dall'impegno politico in tutta la sua vita ha portato la sua testimonianza alle scuole. Questo è importante, è un collegamento, così come si può definire nazismo, una nuova forma di nazismo, distinguere chi può fare o meno il vaccino rispetto all'età. Questo è nazismo che va combattuto e la regione toscana deve dare dei segnali. Questo è un premio che riconosce il senso della libertà, della vita ed è un'icona di rispetto in una giornata come quella della memoria che deve farci riflettere e portare rispetto a persone come in questo caso, che a 103 anni dimostrano quanto fosse importante ieri come oggi il senso della vita. Nella sua seduta ordinaria il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione che invita la Giunta a valutare la concreta possibilità di intraprendere un'azione legale condivisa con altre regioni e con il governo nei confronti della casa farmaceutica Pfizer-BioNTech in merito ai ritardi delle forniture delle dosi di vaccino previste negli accordi in sede comunitaria. È una mozione firmata da tutti i gruppi che invita il governo a porre in essere e in atto tutte quelle misure, tutti quei comportamenti e tutte quelle azioni ovviamente ad iniziare da quelle legali perché il comportamento di questa azienda è veramente un comportamento grave che rischia di penalizzare quello che è il bene primario dei cittadini e anche dei toscani ovviamente vale a dire la salute. Quindi l'auspicio e il sollecito che rivolgiamo è che si faccia tutto in tutte le sedi affinché Pfizer riprenda la fornitura dei vaccini così come si era impegnato a fare ed eventualmente abbia quelle penalità se sono previste possibilità applicare che si merita. Abbiamo sottoscritto l'iniziativa del Presidente Mazzeo abbiamo portato anche il nostro contributo volendo sottolineare come in Europa ci siano altri stati non l'Italia che in realtà hanno avuto invece più dosi di quanto contrattate nella prima fase di contrattazione quindi c'è qualcuno che ha avuto più dosi di quelle che aspettavano dagli accordi iniziali e ci sono paesi come l'Italia e nella fattispecie la Toscana che si sentono dire da un'industria farmaceutica straniera che non ci daranno le dosi che avevano garantito di darci quindi la situazione è difficile io spero che la Regione Toscana ma non solo l'Italia tutta si costituisca in questa azione legale contro Pfizer e quindi l'appoggio di Fratelli d'Italia è inevitabile. È una mozione condivisa sottoscritta anche da me insieme al Presidente è una mozione che chiede di fare luce fare massima attenzione e velocità che chiede rispetto per gli impegni presi con la nostra Regione bene la notizia di oggi dell'arrivo di 29.000 dosi e bene che vengano mantenuti gli impegni serve essere tempestivi, essere puntuali rispettare i tempi della fase 1 e serve anteporre alcune esigenze particolari in primis quello degli insegnanti che è una categoria che noi vorremmo vaccinare quanto prima insieme al personale sanitario. La sosteniamo, la firmeremo però facciamo una proposta ulteriore che secondo noi è ancora più importante utilizzare l'articolo 31 di un trattato ortennazionale l'acronimo si chiama TRIPS che permette l'utilizzo della licenza obbligatoria cioè la possibilità di produrre vaccini ma anche farmaci in casi di emergenze eccezionali da parte di aziende che non sono quelle produttrici in questo caso la Pfizer e questo viene fatto proprio per la situazione di enorme emergenza in cui ci ha gettato anche non soltanto la pandemia ma anche delle aziende, delle multinazionali che lo devo ricordare soprattutto a tutti quelli che elogiano la sanità, il privato nella sanità loro devono fare interessi di mercato i governi invece devono fare gli interessi della popolazione allora io mi rivolgo ai sovranisti ma anche a quelli che si dichiarano di sinistra questo è il momento di fare una scelta a forze facciamo produrre il vaccino alle nostre aziende utilizzando questa possibilità della licenza obbligatoria quindi in pratica rompendo un po' con le regole del resto è stata Pfizer a rompere gli accordi che già erano molto pesanti per il governo contrattuali nei nostri confronti rischiando di creare un problema veramente serio per quanto riguarda quell'immunità di Greggio che si allontana noi siamo stati i primi a denunciare e a chiedere che la regione si costituisse parte civile perché quello che è successo è inaccettabile abbiamo fatto, cioè l'Italia, il nostro paese il paese membro del G8 uno dei primi paesi contribuenti dell'Unione Europea hanno sottoscritto il nostro governo dei protocolli la cosa che più mi indigna è che né il Presidente del Consiglio dei Ministri né il Ministro degli Esteri nessun Ministro ha preso un aereo è andato alla Pfizer a rivendicare quello che legittimamente era stato fatto cioè la sottoscrizione dei contratti non ci bastano le giustificazioni per questo chiederemo abbiamo ottenuto che la regione toscana si costituisse parte civile nei confronti di una impresa di una multinazionale privata che aveva sottoscritto un contratto e che quel contratto deve mantenere perché ne va del piano vaccinale quindi si vaccinerà più in ritardo ne va anche della ripresa economica anche perché più tardi si vaccinano le persone più tardi arriverà la ripresa economica per questo noi siamo come dire grati al Presidente del Consiglio regionale Mazzeo di aver portato in Consiglio regionale una nostra proposta e siamo stati i primi a chiederlo Grazie a tutti